Ragazzi allora buonasera da tutti, ultima ora, ultima ora di Romeo Agresti è fatta per polpo qua alla Juventus L'ufficialità secondo lui arriverà a luglio per questioni burocratiche, io non capisco queste questioni burocratiche cosa possono essere Perché tutti ufficializzano i parametri zero adesso, noi invece no, questa cosa qui non la capisco O qualcuno ha ipotizzato il discorso delle commissioni agli agenti per diciamo farlo entrare nel bilancio 2023 e non 2022 Non lo so questo, io ipotizzo leggendo anche un po' i commenti di qua e di là, poi c'è una foto di Allegri che gira Qualcuno mi ha detto che può essere vecchia però anche là i giornalisti perché la fanno girare, cioè informarsi prima no Io l'ho pubblicata adesso, l'ho eliminata dalla community però se qualcuno mi può dire se è fake, se non è fake, se è vecchia, se non è vecchia e quant'altro Magari mi farebbe anche un favore e spero che facciano più delucidazione giornalisti che comunque io ritengo importanti E al di là di qualche diciamo cantonata che si sono presi ma magari non per colpa loro anche se a volte magari hanno fatto i presuntuosi quant'altro Possano appunto fare chiarezza su quella foto lì Detto questo, Romeo Gresti oggi ha riportato che vediamo se riesco a leggervi anche appunto direttamente il tweet suo Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati, Pogba torna alla Juventus, l'ufficialità a luglio Appunto per questioni burocratiche, non ha aggiunto questioni burocratiche però poi è data settimana e ha giorni che dice questa cosa Quindi questa è l'ufficialità, cioè l'ufficialità scusa no, l'ufficialità è quando firma, quando c'è la presentazione, quando c'è il comunicato ufficiale Questa è l'ultima ora di Romeo Gresti, quindi Pogba a luglio sarà ufficialmente secondo Romeo Gresti appunto un giocatore della Juventus Adesso si aspetta semplicemente l'ufficialità che dovrebbe appunto secondo lui arrivare a luglio L'ingaggio, i dettagli non li so, probabilmente li dirà più avanti, staremo a vedere Ditemi la vostra, io ovviamente sull'acquisto eventuale dirò la mia all'ufficialità e dirò appunto il mio voto all'acquisto in generale e sul giocatore stesso Ciao a tutti e ci vediamo ovviamente con ulteriori aggiornamenti